Nell'ultimo video ci eravamo lasciati dicendo che per Severino il linguaggio si origina dalla volontà isolante e ci eravamo soffermati sul senso che Severino dà a quello che egli dice l'isolamento della terra. Abbiamo visto come anche il linguaggio stesso può essere pensato come voluto dall'isolamento della terra e ho cercato di dare un significato a quello che con questi termini dico. Ci eravamo lasciati dicendo che avremmo analizzato il secondo paragrafo del quattordicesimo capitolo del destino della necessità. Il titolo di questo paragrafo è Il prevalere dell'immagine. Accanto ad un'analisi sommaria di questo paragrafo vedremo anche alcuni passi di Oltre il linguaggio per cercare di precisare ancora meglio quello che Severino vuole dire. Quindi comincio subito a leggervi alcune frasi di questo secondo paragrafo del destino della necessità. Dice Severino Ogni linguaggio è stato un linguaggio mortale cioè ogni linguaggio nasce dalla volontà di isolamento della terra L'avamo visto l'altra volta che dal punto di vista strettamente linguistico questo significa pensare ogni segno come separato a sé stante rispetto ad altri segni. D'altronde non c'è possibilità di parlare se non separando questi segni uno dall'altro. Quali sono le conseguenze di quest'operazione? Severino Coglie la conseguenza fondamentale Ogni linguaggio è stato cioè un linguaggio mortale e con questo linguaggio deve parlare lo stesso tentativo di testimoniare al di fuori del nichilismo la struttura del destino ed il tramonto del mortale. Severino qui ci sta dicendo Anche io parlo Anche chi testimonia il destino parla e quindi con questo linguaggio mi tocca parlare e questo linguaggio è il linguaggio della volontà isolante quindi anche la testimonianza del destino quindi anche le parole della mia filosofia rendiamo meno enfatica meno meno suggestiva diciamo meno suggestivo il pensiero di Severino meno suggestiva questa presentazione la testimonianza del destino è la filosofia per così dire di Severino quello che io vi sto dicendo ve lo sto dicendo utilizzando appunto il linguaggio quindi la volontà del mortale Anch'io quindi nel parlare dice Severino nel testimoniare il destino con le sue parole anch'io utilizzo questa volontà isolante Continuo a leggere Anche il linguaggio dei mortali è una delle cose della terra isolata Severino dice la mia filosofia non è esente proprio perché detta proprio perché il linguaggio la mia filosofia non è esente dalla volontà isolante Ricomincio a leggere Anche il linguaggio dei mortali è una delle cose della terra isolata Sicché è impossibile che esso questo linguaggio anche il linguaggio che testimonia il destino Sicché è impossibile che esso sia l'immagine del destino da cui la terra è isolata Ora tutte le discussioni che ci sono riguardo alla filosofia di Severino non tengono conto di questo semplice fatto che può essere anche concepito e pensato come un pensiero etico come addirittura un fondamento etico però su questo giustamente non basta non basta dirlo bisognerebbe poi entrare ancora più nel dettaglio Severino ci dice se è il mio stesso linguaggio il linguaggio di Severino è un linguaggio che si origina dalla volontà isolante ok dall'isolamento della terra dal destino anche il mio linguaggio è impossibilitato ad essere un'immagine del destino perché è per così dire viziato all'inizio viziato in origine proprio perché è il linguaggio proprio perché è un'operazione quella di parlare quella di scrivere quella di usare un linguaggio che isola la terra dal destino anche il linguaggio dei mortali è una delle cose della terra isolata sì che è impossibile che esso sia l'immagine del destino da cui la terra si è isolata nel capoverso a pagina 4 il primo capoverso a pagina 497 tira va ancora più a fondo con questa con questa riflessione Severino e dice il linguaggio che con la terra isolata si inoltra nell'apparire del destino certamente per capire quest'inciso tra due virgole che con la terra isolata si inoltra nell'apparire del destino per capire quest'inciso ci va tutta un po' tutta la visione tutta la filosofia severiniana per cui non mi non commento quest'inciso comunque dice il linguaggio è l'immagine della terra isolata ora il severiniano che parla i seguaci di severino chi dice io sono un severiniano io dico quello che dice severino eccetera eccetera non può dimenticare quanto severino dice in questo paragrafo cioè non può dimenticare il fatto che nemmeno il linguaggio di severino è per così dire l'immagine del destino perché il linguaggio stesso di severino è immagine della terra isolata ora certo si può essere come dire andare a cercare il pelo nell'uovo no e chiederci ma che cosa intende qui severino per immagine per esempio no io ho avuto una discussione con qualcuno e ma qui severino per immagine non specifica cosa intende per immagine allora il lessico usato da severino ve lo ripeto è un lessico che prende dal lessico comune anche dal lessico comune non entra in un in un lessico tecnico specifico e quindi lascia in un certo senso al il significato di certi termini come immagine lo lascia al significato che si dà comunemente alla parola immagine e non è soltanto questa la parola che severino il termine che severino usa in questo senso continuo ancora prendo l'altro l'altro periodo l'immagine del destino della verità continua invece a rimanere nell'ombra del non apparire ma questa immagine del destino della verità che continua ad apparire continua a rimanere nell'ombra dell'apparire è tale continua a rimanere nell'ombra dell'apparire anche quando si parla e in opera che cosa la testimonianza del destino ciò che noi diciamo per un qualunque linguaggio per una qualunque visione che viene detta ogni volta che noi utilizziamo la lingua vale naturalmente anche per quel particolare linguaggio che è la testimonianza del destino in particolare che è la mia filosofia dice Severino Severino in poche parole dice neanche la mia filosofia può dirvi un'immagine del destino può riportarvi può rispecchiare il destino anche la mia anche la mia filosofia dato che in filosofia si parla si dice si utilizza il linguaggio è affetta da questa impossibilità qui c'è appunto lo snodo etico lo snodo etico della filosofia di Severino perché snodo etico perché si va verso una dimensione mistica nel senso che attraverso il linguaggio si arriva a ciò che è l'ineffabile andando all'origine del linguaggio si giunge all'ineffabile del linguaggio all'ineffabilità del linguaggio ora siccome il linguaggio si fonda l'elemento primario originario del linguaggio è il segno segno fonemi grafemi non scendiamo nel particolare di ciò che costituisce gli elementi primari del linguaggio gli elementi di base di un qualunque linguaggio e quindi anche del linguaggio formale e quindi anche della scrittura di una logica formale e così via qui stiamo cercando di stare a pensare a riflettere sulla radice di un qualunque linguaggio alla radice di un qualunque linguaggio vi è il segno ma il segno nasce dall'isolare un ente che è il segno che in parole molto base facili facili un segno è quel qualcosa che sta per qualcos'altro un qualcosa che sta per qualcos'altro poi da questo segno vengono fuori sintassi associamo un segno ad un altro tramite certe abbiamo la sintassi questa sintassi può essere il gioco degli scacchi oppure può essere la logica formale ed è un discorso a queste sintassi si associano delle semantiche abbiamo già visto chi vede il mio canale queste robe le dovrebbe avere già viste si associa una semantica ad una semantica dei nomi dei termini si associa una semantica della formalizzazione particolare logica che noi abbiamo e avremo un sistema sintattico semantico l'applicazione di una logica formale eccetera giustamente vi è una distinzione tra sintassi e semantica su questo non ci sono dubbi ma ciò di cui Severino sta parlando non è questo ecco perché tutto il discorso di Severino tutto questo discorso che riguarda il linguaggio di Severino viene prima di sintassi semantica e riguarda l'originarietà quell'elemento di originarietà che sta nel segno qualcuno Daniele Dalasso suggeriva qui di una di una discussione intorno all'ontologia del segno l'ontologia del segno cioè chiamare questo discorso denominare questo tipo di discussione come un'ontologia del segno in effetti appare tale l'elemento etico però che entra che entra in gioco è appunto l'ineffabilità di ciò che Severino dice essere il destino che noi molto più semplicemente possiamo dire la realtà quello che accade a partire da questa riflessione si giunge a dire che vi è un'ineffabilità della realtà la realtà in ogni caso non può essere detta e non può essere detta perché ogni segno nasce dall'isolamento dal necessario isolamento bene interrompo un attimo la lettura di questo secondo paragrafo per approfondire e questo lo facciamo sempre con i testi di Severino perché qui di Severino sto parlando per approfondire quanto abbiamo detto andando a un'analisi una lettura del di un paragrafo di oltre il linguaggio si tratta della lettura del settimo paragrafo di oltre il linguaggio del primo capitolo della parte terza e il titolo del capitolo è sull'identità e la differenza perché trovo questo paragrafo interessante perché sintetizza bene il problema della volontà dell'isolamento della terra in riferimento a quel particolare ente che è il linguaggio ed in più i cenni attraverso per così dire quello che dice Severino capiamo qual è il milie filosofico a cui Severino si rivolge in questo caso ora leggo e commento la parola può riferirsi alla cosa solo se la cosa appare cioè solo se appare l'identità alla quale si riferiscono i differenti segni che la indicano sono tre righe ma sono tre righe da capire ripeto supponiamo di avere il nostro portocchiali nostro portocchiali il mio portocchiali il nostro il mio portocchiali la parola portocchiali si riferisce alla cosa portaocchiali affinché attenzione bene affinché la parola si possa riferire alla cosa la cosa deve naturalmente apparire semplicissimo ma non appare soltanto alla cosa questo è il punto essenziale da tenere a mente se uno vuole capire quello che dice Severino la parola può riferirsi alla cosa solo se la cosa appare cioè solo se appare l'identità alla quale si riferiscono i differenti segni che la indicano quindi abbiamo portocchiali ora Severino qui non distingue tra nome segno certe volte usa segno per dire nome eccetera in questo caso noi utilizziamo segno pensiamo a segno quando Severino dice segno lo pensiamo come nome ok d'altronde possiamo semplicemente indicare con una P sto portocchiali e con questo segno P o anche con l'immagine degli occhiali come segno con questo segno P come immagine un'immagine di un paio di occhiali indicare la cosa che sono gli occhiali qui però Severino dice qualcosa in più di quello che si può intendere subito direttamente uno dice sì deve apparire questo portocchiali affinché io con la parola portocchiali mi posso riferire al portocchiali e beh sembra scontato ma qui Severino dice una cosa in più dice deve apparire l'identità alla quale si riferiscono i differenti segni che la indicano cioè deve apparire l'identità alla quale i differenti segni si riferiscono quale identità l'identità ontologica della cosa della cosa a cui il segno si riferisce ora qua riflettiamo un attimo per capire bene perché Severino specifica che deve apparire l'identità della cosa a cui il segno si riferisce supponete e questo lo prendo da fenomenologia eretica di Luca Taddio però non lo reggo perché anche se no diventa troppo lungo sintetizzo un colloquio diciamo un colloquio che Luca Taddio riporta appunto nel suo libro il secondo capitolo di fenomenologia eretica riporta i colloqui che ha avuto con Severino allora supponete avere un cubo quando voi guardate un cubo percepite un cubo non percepite mai tutte e sei le facce del cubo ok quindi in un certo istante percepite certe facce in un altro poi ruotate il cubo ne percepite un'altra poi ne ruotate un'altra ne percepite un'altra e così via ma noi voi non percepirete mai il cubo come intero lo immaginerete avrete delle aspettative c'è tutta l'analisi fenomenologica nei capitoli seguenti Luca Taddio segue appunto la fenomenologia di queste percezioni eccetera ma è una parte che non ci riguarda il pensiero di Severino è questo voi potete nominare il cubo come cubo come possiamo nominare questo paio di occhiali perché sono un paio di occhiali perché state nominando l'identità della cosa capito voi non nominate per Severino voi non nominate semplicemente questo paio di occhi questo porto occhiali non nominate semplicemente il cubo ma state nominando il cubo perché perché nominate l'identità della cosa affinché voi affinché si possa nominare una cosa si deve essere si deve per così dire presupporre l'identità stessa della cosa ciò che permane e che rende appunto l'idea dell'identità stessa della cosa nell'istante t1 avrete per così dire questo aspetto del porto occhiali nell'istante t2 avete questo aspetto del porto occhiali ok ma affinché voi si possa nominare questa cosa come porto occhiali è necessario dice severino è necessario che sia data immediatamente l'identità ontologica della cosa stessa e grazie al fatto che si è in grado di nominare l'identità ontologica di quella cosa lì che voi la potete nominare d'altronde se quest'aspetto del porto occhiali e quest'aspetto del porto occhiali non sono dello stesso porto occhiali ok voi non potete nominare quel porto occhiali questo particolare porto occhiali avete questo particolare porto occhiali che chiameremo poi porto occhiali 1 questo particolare porto occhiali che chiamerete porto occhiali Oppure potete dire alfa 1, alfa 2, non avete alcun nome perché non avete supposto l'identità della cosa, non avete supposto l'identità ontologica della cosa. La parola che uso supposto è per farci capire, ma in realtà non è una supposizione intellettuale, è qualcosa che ci viene dal linguaggio stesso. Detto questo, vediamo le parole di Severino, quello che lui dice in questo settimo paragrafo. Quindi ripeto, la parola può riferirsi alla cosa solo se la cosa appare, cioè solo se appare l'identità alla quale si riferiscono i differenti segni che la indicano. Questa identità della cosa appare immediatamente per Severino e grazie all'immediato apparire dell'identità della cosa che noi possiamo nominare la cosa. Questo è il passaggio essenziale e grazie all'apparire, all'immediata identità della cosa che noi si può nominare la cosa. E' necessario che appaia, continuo a leggere, sebbene non separata dalle differenze, è necessario che appaia la determinatezza semantica in cui consiste il significato. Ad esempio lampada, identità, questa è la determinatezza semantica, qui si sta riferendo alla determinatezza semantica delle parole lampada e identità. In che cosa consiste questa determinatezza semantica? Consiste nell'identità alla quale si riferiscono i diversi modi di indicarlo. E qui arriva un controfattuale di Severino, attenzione, un controfattuale speculativo ora qui, no? Perché Severino ci dice, se non appare alcuna identità, questo è un controfattuale molto astratto che utilizza Severino. Ecco perché alcuni passaggi sono un po' difficili da seguire. Se non appare alcuna identità, quindi mettiamoci nella condizione di pensare che non appare alcuna identità, dice Severino, e le cose appaiono soltanto nel loro essere differenze di A e B, dice Severino, non appare che A è identico ad A e B è identico a B, appare soltanto la differenza tra A e B. non può apparire, se questo accade, non può apparire nemmeno la differenza delle cose. Qui ci si incarta, perché ci si contraddice, perché in fondo se non appare alcuna identità non può apparire nemmeno la differenza delle cose. Questo è il ragionamento di Severino. Se non appare alcuna identità, non può apparire nemmeno la differenza delle cose. Qui, se voi pensate ad una relazione tra due termini o tra due oggetti, cioè A e B, se non ci sono i relata, in poche parole, non vi è nemmeno la relazione. Qual è la differenza tra due cose di cui non appare l'identità con se stessa delle singole cose? E quindi, dato che per Severino l'identità viene prima della differenza, se non c'è identità non ci può essere nemmeno differenza. Se non c'è differenza, qui Severino poi esagera, dice non può esserci nemmeno un mondo. Però, ecco, ora, questo sembra una ragione, senza i relata non c'è relazione. La relazione tra che cosa? Se non ci sono dei relata? Poi però, Severino avanza ancora e dice, Se infatti appare questo e quest'altro, questo e quest'altro sono identici nel loro essere. Ognuno l'altro dell'altro. È come se Severino in questo caso pensasse ad una relazione in cui ogni termine è definito semplicemente come essere diverso da un altro termine. A è A soltanto perché è differente da B. B è B soltanto perché è differente da A. Ma allora Severino dice, c'è una relazione. Astraiamo, questa è un'operazione di astrazione, ok? Su questo tipo di relazione. E possiamo chiamare quest'operazione astratta altro dell'altro. Se infatti appare questo e quest'altro, questo e quest'altro sono identici nel loro essere, ognuno l'altro dell'altro. Quindi, appartengono alla stessa classe di equivalenza, diremmo noi, con parole più formali, tutti gli oggetti che sono differenti tra loro. Questo è il discorso. In quanto un oggetto è diverso da un altro oggetto, tutti gli oggetti che sono diversi tra loro appartengono alla stessa classe di equivalenza. E qui Severino dice, questo e quest'altro sono identici nel loro essere. Noi traduciamo formalmente questo essere identici come appartenenti alla stessa classe di equivalenza. ognuno altro dall'altro, dell'altro. Ma se non appare alcuna identità, non può apparire nemmeno questo e quest'altro. In poche parole Severino dice, in ogni caso, anche se noi, certo Severino ora, sto parlando con parole un po' più astratte di quelle che usa Severino, però la sostanza sembra essere questa. E uno dice, io penso ad una relazione. La classe di equivalenza di questa relazione è quella classe di equivalenza in cui sono inclusi tutti gli oggetti che sono diversi l'uno dall'altro. Questo è il punto. Per poter dire quindi questo e quest'altro, sia questo che quest'altro devono appartenere a questa classe di equivalenza. Sostanzialmente avremo due classi di equivalenza. Gli oggetti che sono diversi l'uno dall'altro e poi tutti gli oggetti che sono, invece, appartenenti a classi di equivalenza in cui non si può dire che un oggetto è diverso l'uno dall'altro. E quindi possono esserci, nelle altre classi di equivalenza di questa stessa relazione, tutti gli oggetti che, invece, sono identici tra loro. Questo sarebbe il quadro della situazione pensata da Severino. Ma Severino ci dice, in questo caso qui, cosa accade. In ogni caso, dovremmo pensare di Severino ad una classe di equivalenza in cui gli oggetti sono identici ognuno a se stesso e identici ognuno con l'altro. Quest'altro può essere lo stesso oggetto. Questa è la sostanza della situazione. Quindi, in ogni caso, dovremmo pensare l'identità dell'oggetto con se stesso. La sostanza di questo passo è tanta? No. È poca. È quasi nulla. Non è importante. Perché l'immediatezza, l'identità immediata della cosa con se stessa è già data nell'immediato apparire della cosa. Però insiste ancora su un punto. È necessario che l'identità appaia se la parola è un riferirsi alla cosa. questa è la questione essenziale per Severino. Cioè, è immediato che questo portocchiali è identico a se stesso affinché si possa nominare questo portocchiale. Questo è il punto su cui Severino insiste. Ma non è necessità che una certa parola sia il segno di una certa cosa e nemmeno che una cosa sia segno di un'altra. Torno un attimo indietro per capire come Severino sta passando ad un'analisi del segno. sempre insistendo sulla questione dell'identità. Inoltre, se non apparisse l'identità stiamo parlando dell'identità della cosa ossia se non apparisse ciò che permane nel prima e nel poi certamente ora qui Severino mette prima e poi tra virgolette tenete conto della concezione del tempo che ha Severino eternalista. Però diciamo in due e diversi apparire permane un qualcosa ma cos'è che permane? L'identità della cosa. Ecco, questo è che permane. Ora, leggiamo quanto dice Severino inoltre se non apparisse l'identità ossia ciò che permane nel prima e nel poi non potrebbe apparire nemmeno il differenziarsi della cosa e del segno. dipende perché su questo punto Severino insiste diciamo e ci fa capire se il portocchiale appare sotto questo aspetto e appare sotto questo aspetto noi nominiamo portocchiali perché perché appare l'identità della cosa e insisto ancora su questa faccenda c'è in questo Severino dice una differenza tra il segno e la cosa io ve la ve la dico in maniera diciamo a soldoni per capirci subito la differenza è questa mentre potete avere due aspetti dell'oggetto mentre voi potete avere due aspetti della cosa minimo due ne avete infiniti no? fenomenologie infinite ma almeno ne avete due uno e due ok? della cosa avete più aspetti più apparire un prima e un poi chiamatela come volete un girarci intorno nello spazio analisi fenomenologiche tutto quello che volete la cosa è soggetta a questo ma ciò che vi permette di dare un nome un nome alla cosa è che vi appare ci appare l'identità l'identità della cosa e quindi io tutti questi aspetti li nomino con lo stesso nome cioè portocchiale in questo caso questa è la differenza questo marca ed è la differenza tra il segno e la cosa il punto fondamentale è questo vi ripeto se qualcuno non è d'accordo su questa visione di Severino prima viene l'identità ontologica per Severino affinché ci sia un nome deve apparire l'identità ontologica della cosa stessa poi viene tutta l'analisi fenomenologica si può anche non essere d'accordo su questo punto e vi ho dato l'esempio del libro di Luca D'Addio ormai edito anni fa una decina d'anni fa diversi anni fa dove si parla appunto di fenomenologia eretica e Luca D'Addio discute questa diciamo discute l'altra possibilità cioè la possibilità che l'identità della cosa viene per così dire nasce e si origina dopo l'apparire della cosa e non viene supposta prima dell'apparire della cosa a mio parere per poter nominare portocchiali questo oggetto l'identità ontologica è data immediatamente bene detto questo Severino va ancora avanti e dice non è detto che non è necessario che un certo segno abbia come riferimento una certa cosa questo è facile a capire tu puoi dire portocchiali ma potresti anche dire genco questo è genco quindi dice Severino non è ma non è necessità che una certa parola sia il segno di una certa cosa vi ripeto qui si ha l'ambiguità dei termini usati da Severino che non usa un lessico tecnico specifico in riferimento al linguaggio eccetera no segno in questo caso è evidente che si gira nome e nemmeno che una cosa sia segno di un'altra che una cosa sia segno parola di un'altra e che un certo segno sia segno di una certa cosa è un voluto eccoci qua ora a questo punto entra di nuovo in gioco quella che è la volontà la volontà di isolamento che ha a che fare con l'isolamento della terra dal destino eccetera è un voluto cioè che portocchiali abbia come contenuto referenziale ci stiamo esprimendo con parole che non sono di Severino però abbia come contenuto referenziale come riferimento di portocchiali sia questo oggetto che il riferimento il contenuto referenziale di portocchiali sia questo oggetto è un voluto dice Severino è un voluto e qui ora prosegue per parlare di queste convenzioni vi ricordo soltanto legge e caso se il caso se ne parlerà sempre un libro di Severino ora attenzione che qui c'è un altro punto importante continua Severino non si tratta di una volontà arbitraria in cui l'uomo si rapporta ad ogni linguaggio come egli si rapporta ai linguaggi artificiali ok se noi ci facciamo un linguaggio artificiale possiamo inventarci qualunque segno ok e dico anche questo perché c'è una certa tendenza realmente a non leggere quello che dice Severino e a criticare questo filosofo senza leggere quello che dice ok un po' bisogna leggere quello che dice un filosofo prima di criticarlo perché se no non si capisce niente anticipato giustamente quello che oggi si può dire tra gli appassionati di filosofia di Severino eccetera non si può pensare che non sia già stato pensato cioè che siamo proprio noi o i diciamo i pensatori qui che pensiamo solo noi pensare gente come Severino ha già pensato quello che qualcuno può ritenere di essere il primo a pensare ok non è così ripeto io sono un acceso un acceso critico di Severino però neanche essere seri ora ripeto non si tratta di una volontà arbitraria in cui l'uomo si rapporta ad ogni linguaggio come egli si rapporta ai linguaggi artificiali allora in un linguaggio artificiale mi invento un segno mi creo una sintassi e mi faccio una semantica la volontà in questo caso attenzione bene è quello che sto per dire sembra arbitraria sembra arbitraria mantenete conto di un fatto anche questa vostra volontà è immersa è immersa in un mondo il problema della volontà convenzionale non è un problema che si può tirare fuori dal grande problema metafisico della incompatibilità ve lo avevo accennato nel video precedente tra libertà metafisica e necessità di cui diceva van in wagen prima o poi lo analizzerò quell'articolo di van in wagen e tutte diciamo anche le critiche fatte a quell'articolo e anche l'emendazione di quell'articolo di van in wagen comunque anche questa volontà che può sembrare arbitraria forse arbitraria non è perché anche questa volontà e la dico in soldoni è in una storia e qui bisogna mettersi d'accordo se possiamo concepire la storia come qualcosa che è necessario come qualcosa per cui non ci sono altre possibilità non c'è libera scelta reale oppure no ok anche la volontà che sembra arbitraria del convenzionalismo linguistico è immersa in una storia è immersa nella storia umana è immersa in un'ontologia è immersa in ciò che esiste ok ma ciò che esiste in ciò che esiste vi è una reale contingenza sì o no questi sono i problemi ebbene Severino dà una risposta che è tipica di una certa filosofia e ci dice l'uomo si trova ad essere quella volontà cioè non vi è un agente che fa una libera scelta ma dice Severino questo agente è questa volontà e con parole poetiche ci dice il suo trovarsi già da sempre nel linguaggio è appunto il suo trovarsi ad essere quella volontà ora se uno vuole riflettere su quello che dice Severino e semplicemente andare un passo innanzi cosa significa che l'uomo si trova ad essere si trova ad essere che cosa? la volontà isolante ma la volontà che assegna i segni alle cose appartiene appartiene alla volontà che isola la terra dal destino della verità quella volontà che muove e dice fa quest'operazione no? assegno il nome di portocchiali al portocchiali è la stessa volontà che isola la terra dal destino della verità come si autonomina questa volontà va avanti Severino questa volontà all'interno del linguaggio del mortale si autonomina e come si autonomina questa volontà questa volontà ha i propri nomi Dio uomo popolo istituzione sociale apparato scientifico tecnologico perché questi nomi sono questo ve lo dico io non sto più leggendo però la sostanza è la stessa questi nomi sono i nomi della volontà isolante della volontà dell'isolamento della terra ora capite che quando Severino ci dice noi come esseri umani come uomini ci troviamo ci troviamo nel linguaggio ci troviamo in un mondo anche se può sembrarci di avere una volontà autonoma nell'isolare un segno nel dare una sintassia ad una serie di segni e nel dare una semantica a questi segni e anche se noi crediamo di essere agenti che usano questa volontà come in maniera arbitraria nel momento in cui pensiamo in questi termini ci dice Severino ci stiamo dimenticando di essere anche noi dentro un mondo e ci stiamo dimenticando che questo mondo è un mondo storico fatto di determinazioni queste determinazioni sono del tutto contingenti o sono necessarie esiste una reale volontà che esula da un certo determinismo da una certa anche se le cose sono diverse determinismo e necessità però attenzione da un certo determinismo da una da una certa necessità oppure no su questo bisogna riflettere e vi ripeto l'articolo di Warren Wagen la dice lunga su questo punto bene andiamo ancora avanti qui il discorso è perché vi dicevo prima Severino con queste parole ci indica il mondo a cui il mondo culturale il migliaia culturale a cui lui si riferisce nel parlare di identità e differenza per così dire il riferimento è a Derrida differenza eccetera eccetera Severino critica per esempio Derrida e dice no prima c'è l'identità poi c'è la differenza la differenza in questo senso in questo discorso non può dirsi che viene prima l'originario e l'identità attenzione su queste parole originarie e tutto il resto richiederebbe ancora un altro video non so se lo farò oppure lo farò in una live vediamo che è un qualcosa di interessante perché qui i temi toccati da Severino sono il segno come rimando all'oggetto come rimando alle cose o il segno come rimando ad altri segni e questo ci fa immediatamente pensare ad una concezione a quella particolare concezione che aveva lo stesso Heidegger quando Severino nomina l'identità come ciò che viene prima della differenza e il riferimento è a Derrida ha ben presente Severino per così dire il suo interlocutore il suo interlocutore ideale ok è una certa tradizione che vi ripeto va da Heidegger fino a Derrida la sua insistenza è su questo punto solo di carambola l'interlocutore ideale di carambola nel senso che è per così dire un interlocutore secondario di Severino per quanto riguarda questa discussione sul linguaggio queste meditazioni sul linguaggio solo di carambola e il logico formale il filosofo analitico i suoi interlocutori in questo caso sono Sassor Benveniste eccetera eccetera Heidegger fino a Derrida solo un altro piccolo punto un'altra cosa importante l'identità inoltre alla quale si riferiscono le differenze che la esprimono può essere a sua volta un significato che si vuole cioè l'identità stessa può autovolersi che sia la determinazione di un altro significato ora qui il discorso si comincia a fare complesso però è qualcosa su cui devo discutere un attimo quando si dice questa è una lampada il significato lampada determina il significato consistente nella questità indicata dalla parola questa ma che tale questità sia sia una lampada e un'interpretazione ora attenzione bene con questo chiudo Severino in una delle sue lezioni portava l'esempio di una lastra fotografica che aveva fotografato delle galassie delle stelle no in realtà cosa intende Severino per in questo caso qui la differenza tra un'interpretazione della della lastra e ciò che dà immediatamente la lastra cioè ciò che appare immediatamente nella lastra voi che cosa avete buio e delle macchie delle macchie bianche per esempio ok cioè del nero e delle macchie bianche questo è il dato immediato voi la nominate come lastra fermiamoci un attimo qui la nominate come lastra perché rispetto a quello che ho detto all'inizio di questo video avete l'identità immediata della cosa è una lastra gli date un nome questo nome lastra significa che indica l'identità l'identità di ciò che appare l'identità di ciò che appare vi è una seconda naturalmente vi è un altro significato di questa lastra qual è? il significato che ci dice beh non è una macchia con delle uno sfondo nero con delle macchie bianche questa rappresenta una galassia ci dà una galassia attenzione ora qui Severino queste parole Severino possono essere interpretate come un contenuto referenziale diretto la lastra sfondo nero e macchie bianche e un contenuto indessicale che noi diamo contenuto referenziale e contenuto indessicale secondo quello che dice per esempio Perry Kaplan capite bene se vedete il video sul dito il dito di Dio sui dimostrativi questo dovrebbe in un certo senso farvi più chiaro quindi voi avete un contenuto referenziale diretto che è la lastra voi avete un contenuto indessicale che dipende che dipende dal contesto il significato di quella lastra dipende dal contesto da tutto un contesto ora il contesto che costituisce diciamo è uno degli argomenti del contenuto indessicale nasce dalla volontà di interpretazione che significa questo contesto per esempio nel caso in cui avremo una lastra fotografica che fotografa una galassia il contesto è dentro un un contesto scientifico dentro un mondo dentro una storia dentro ulteriori interpretazioni e così via questo ci dice Severino ma se è dentro un mondo dentro interpretazioni se non è semplicemente l'immediato della percezione ok qui ora non è bene so che c'è una differenza tra percezione sensazione eccetera non entro in questi dettagli accontentiamoci per ora di questa distinzione tra l'immediato della percezione e l'interpretazione di questo immediato l'immediato della percezione con l'immediato della percezione possiamo dire avremo un contenuto referenziale diretto con l'interpretazione che fa riferimento ad un contesto ok avremo quello che Per diceva è contenuto indessicale di un certo nome e di una certa cosa benissimo questo ci dice Severino questo contenuto indessicale nasce da un mondo da tutto quel mondo in cui l'interpretazione si è costruita la discussione filosofica a questo punto è ma fino a che punto è di gomma cosa voglio dire fino a che punto è di gomma questo contenuto indessicale fino a che punto noi possiamo per così dire manipolare il contenuto indessicale e dire si tratta di una galassia e in che senso si tratta di una galassia eccetera fino a che punto lo possiamo dire un altro esempio rapidissimo vedete il sole che gira intorno alla terra questo è il contenuto immediato il contenuto referenziale del percorso del sole intorno alla terra però poi avete un altro contenuto il contenuto indessicale che nasce da un'interpretazione dall'interpretazione di una comunità di parlanti che ti costruiscono la scienza che dicono guarda che non è il sole che gira intorno alla terra ma è la terra che gira intorno al sole ok il contenuto referenziale e questo contenuto indessicale possono essere più coerenti di quel contenuto referenziale che ti indica il sole e che ha una teoria che dice semplicemente che il sole gira intorno alla terra siamo d'accordo ma come vedete questo è lo scontro di volo di Enel termini severi uno scontro di volontà abbiamo due voluti che interpretano in maniera diversa ciò che è dato dall'immediato della percezione possono nascere appunto dei problemi che riguardano fino a che punto può essere modificato un certo contenuto indessicale questa è la questione che riguarda appunto il significato la volontà di determinare e di dire di determinare attraverso un linguaggio che cos'è la realtà in che cosa consiste la realtà severino ci dice qualunque sia il linguaggio che voi usate questo linguaggio nasce da una volontà isolante che isola lo stesso segno che si trova all'origine e quindi né il mio linguaggio dice severino è un'immagine della realtà di come stanno le cose che noi abbiamo tradotto con realtà destino né il mio né un'immagine del destino né qualunque altro linguaggio che parlerà la realtà è un'immagine di come stanno le cose perché all'origine vi è questa impossibilità l'impossibilità di isolare una cosa da tutte le altre e quindi l'impossibilità di dire a partire dall'isolamento di un segno da tutti gli altri segni qui nasce come capito un'escussione tipicamente filosofica ecco magari vediamo come questo discorso di severino sul linguaggio può essere trattato in riferimento alle altre filosofie che si sono interessate non da un punto di vista analitico della questione e mi riferisco appunto a a linguaggio per come è trattato da Sassur Benvenista Heidegger Derrida e anche il nostro severino vediamo se è possibile diciamo fare una serie di video su questo invece per quanto riguarda altri video credo che dal punto di vista della filosofia analitica e strettamente dal punto di vista della filosofia analitica mi comincerò di nuovo tornerò ad occuparmi di filosofia del tempo perché ho visto dei video in cui sono state espresse diverse imprecisioni e nel mio piccolo cercherò di dire come la penso grazie e al prossimo video di grazie